Noi andiamo a fare pia, andiamo direttamente a campagna. Ciao Santino. Tutto bene? Tutto male. Perché? Il motor è in palla. Vabbè, ma non è niente di grave, fasce, cilindri, tutto. Allora metti a posto, dai. Ciao. Buongiorno ragazzi. Ciao. Allora, molla gli ormeggi, dai. Salvatore. Salvatore sta giocando a tennis e abbiamo Stefano. Hai trovato un altro membro. Perché Stefano è un gran membro. È un grosso membro anche lui, dai. Perché è proprio a vela a zero. Eh vabbè, ma l'importante è essere dimensionati. Io vorrei imparare e andare a... Però Stefano è uno che... Vabbè, ti facciamo oggi una lezione velocissima, ti spieghiamo tutto, vedrai, corso superaccelerato. 10 minuti in pari. Esatto. Il vento, chezza, non lo impari questi secondo me. No, è una cosa... Guarda, ci riesco io, credimi, si può fare. Secondo me lo capisci. È più strano vederlo da fuori. Quando si imbarca sembra una cosa naturale. Quando si imbarca, dici, certo che cazzo deve andare così. Che forza, non puoi andare così. Ah, se quando lo vedi fuori, come fa? È come andare in bicicletta, dai. Ah, io metti in moto, dai. Cazzo, adesso qui, Nando, non si fida a salire prima di metterlo in moto. L'abbiamo chiamato, siamo stati due ore, cazzo, metterlo in moto. Questo è di Januario. Non può essere qui, non è qui. Quella becca è lì, non lo sta prestando. Allora, Nando. Ehi. Ah, il coso che non tornava indietro bene. E non dava il consenso, ho capito. Adesso lo devi tirare su o no? Non lo tiri su? Non lo metti qua su per mettere il mobile. Poi ci ritrova di attaccare la benzina. No, metti la benzina. No, no, ce la vuoi. E dove è il tubo? Ah, non era un mese fermo. E' un gioiellino, dai, va bene. Eravamo noi. Non è proprio un gioiellino. Togli l'aria. Togli l'aria, togli l'aria. L'aria, togliegliela tutta. Però la pazzi la sigaretta, aiuto, dai. Io la posso mandare adesso così mi... Deliberi i polmoni. Mi diventi o bene. Allora, quello di questo è questo. Ecco, cominciamo a uscire, aiuto. Aiuto. La poppa la lasciamo, poi. Andiamo a fiumare con la sigaretta.